Ciao a tutti da Francesco Gabi Fly, oggi sono a Monte Fumaiolo in provincia di Forlì Cesena è alto 1.408 metri questo monte e io mi dirigo alle fonti del Tevere e vi farò vedere dei filmati che magari vi potrebbero interessare se non siete mai stati, intanto buona visione, ciao a tutti eccoci arrivati alle fonti del Tevere che molti non sanno che qua praticamente c'è una deviazione che l'acqua si divide, una parte va a Roma e una parte va a Rimini nel Marecchia a Roma 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 Grazie a tutti.